Cari pellegrini, pensate che esiste una parola che è cisgender. Con questa parola si vogliono indicare coloro i quali fanno perfettamente coincidere quello che è il genere con il sesso della nascita. Ormai siamo in un totale capovolgimento del mondo per cui occorre questa sorta di neolingua, per cui come esiste il transessuale, come esiste l'omosessuale, come esiste la lesbica e via discorrendo, poi sapete che ci sono tante varianti possibili, c'è anche un termine che riguarderebbe coloro i quali fanno coincidere il genere con il proprio sesso. Quindi la dimensione possiamo definire senza smentita, anche se questo linguaggio che utilizziamo è politicamente scorretto, però la dimensione normale. Ora, colui che ha coniato il termine cisgender è un tedesco, è un medico, Volkamp Sigush, chiedo scusa, il quale leggendo dal benemerito sito Provite Famiglia, il quale ultimamente avrebbe preso le difese della pedofilia. Ora, la cosa non ci deve meravigliare perché, vedete, qui si tratta semplicemente di buonsenso e si tratta semplicemente di logica elementare. Cioè nel momento in cui noi andiamo a togliere, teorizziamo, quello che è la discriminante naturale e quindi l'essere maschio o l'essere donna, per cui sdoganiamo questo, diciamo, superamento della discriminante naturale, tutto in realtà poi diviene possibile. Allora vi voglio offrire questa immagine, non so se sia un'immagine, diciamo, puntuale o meno, che faccia veramente capire, però insomma è la prima immagine che mi viene in mente. Ecco, pensiamo di avere un campo, un podere, no? E dobbiamo recintare questo podere, meglio dobbiamo dividerlo in due parti, per cui dobbiamo poi, dobbiamo elevare una staccionata in maniera tale da poter dividere in due parti questo podere. Ora, perché la staccionata possa effettivamente leggere, ci conviene utilizzare quello che è una sorta di vena rocciosa, per cui facciamo le buche in questa vena rocciosa e andiamo poi a inserire i paletti della staccionata. Ora, in questo modo i paletti della staccionata effettivamente rimangono solidi, a qualsiasi sollecitazione rimangono solidi. Ma se noi invece volessimo inserire i paletti della staccionata, non su questa vena rocciosa, ma sul terriccio, sul terriccio molle, sul terriccio fangoso, sul terriccio sabbioso, inevitabilmente la staccionata non è solida, fletterebbe e fletterebbe anche di molto. Ecco, vedete, questa immagine è l'immagine che, torno a ripetere, mi viene in mente per cercare di capire questa situazione. Cioè, nel momento in cui si scavalca quello che è il discrimine naturale tra uomo e donna e quindi si dice che la sessualità è possibile al di là di questo discrimine naturale, anzi si mette proprio in discussione la naturalità di questo discrimine, allora è chiaro che tutto diventa possibile. Diventa possibile anche il poliamore e, perché no, diventa possibile anche la pedofilia, perché è chiaro che poi la pedofilia si basa sul, diciamo così, sulla convinzione del fatto che l'altro non possa essere adeguatamente maturo per dare il consenso, eccetera. Però capite benissimo che anche questo riferimento è un riferimento che richiama il dato di natura, ma se noi il dato di natura lo abbiamo già precedentemente scavalcato, è chiaro che anche questo dato di natura può essere facilmente messo, può essere facilmente messo in discussione, per cui non ci dobbiamo meravigliare se, come riporta il sito Provite Famiglia, colui che ha teorizzato, meglio colui che ha coniato il termine cisgender, che è questo tedesco sigusch, oggi difenda la pedofilia. È tutto perfettamente logico, è tutto ai noi perfettamente logico. Bene cari pellegrini, vi saluto caramente, rimandando, attendendo il prossimo video, vi saluto caramente e vi ricordo sempre che Dio è verità, bontà e bellezza.